Cerchio Marina Non v'è alcuna parola che possa sufficientemente spiegare il lavoro che è questa. Il lavoro è relazione. Nella relazione voi siete, perché voi siete relazione e non potete esistere senza relazione. Perché la relazione vi fa essere ciò che siete. Vi fa essere ciò che diventate. Perché nella relazione voi amate e anche non amate. Perché nella relazione voi ponete voi stessi in qualsiasi forma questo facciate. Perché nella relazione si manifesta tutto ciò che è stato da voi edificato dentro di voi. E badate bene. Non sto dicendo che la relazione porta all'esterno ciò che avete all'interno. Ma sto dicendo che nella relazione ciò che è all'esterno e ciò che è all'interno diventano la stessa cosa. Perché interno ed esterno nella relazione diventano soltanto mutualità. Quando non diventa questo, la relazione muore. Ecco perché io dico, non c'è esterno e interno. Perché non c'è qualcosa che voi offrite agli altri e gli altri offrono a voi. Ma c'è qualcosa che voi individuate negli altri e gli altri individuano in voi. E ciascuno di voi in questo modo è l'altro. È l'altro. Nel senso che scopre dell'altro ciò che lo fa essere sempre più se stesso. In questo senso l'uno guarda all'altro. Non tanto per apprendere. Non tanto per dare. Non tanto per scambiarsi. Ma perché l'altro possa prendere quello che individua come parte di se stesso.